I carabinieri di Ragusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla direzione distrettuale antimafia di Catania nei confronti di 5 persone appartenenti ad un sodalizio criminale operante a Vittoria, tutte ritenute responsabili d'essorsione continuata in concorso nei confronti di un esercizio di ristorazione della frazione di Scoglitti. Uno dei 5 è stato rintracciato a Carate Brianza dove risiedeva. 3 degli indagati risultano appartenenti alla famiglia Ventura inserita nel clan mafioso dominante Carbonaro della Stigia Vittoriese. I 5 indagati tutti pregiudicati avrebbero richiesto in più occasioni ai titolari del ristorante pagamento da alcune somme di denaro minacciando in caso di rifiuto da arrecare danni all'esercizio commerciale sino a peraventarne l'incendio. Le indagini avviate nell'agosto del 2020 a seguito di una denuncia effettuata dai due coniugi proprietari dell'attività di ristorazione hanno accertato come gli indagati dal 2014 al 2020 in più occasioni avrebbero minacciato i due commercianti inducendoli a versare ripetutamente somme di denaro di importo variabile prospettandone la destinazione di sostentamento degli appartenenti a clan mafioso. Il valore del denaro è storto nel tempo ai due ristoratori si aggira intorno ai 4.000 euro.